Ha scatenato diverse polemiche la visita fatta in Brianza dal sottosegretario al Ministero degli Interni, Nicola Molteni, per verificare la situazione in seguito ai nubi fragi di settimana scorsa. L'accusa principale è arrivata da un comunicato congiunto di 16 sindaci della provincia Brianzola e dal capogruppo in consiglio provinciale di Brianza Rete Comune, Vincenzo Di Paolo. Nel suo giro sul territorio, viene denunciato nel comunicato, Molteni ha incontrato soltanto sindaci e assessori appartenenti al centrodestra, prendendo anche parte a una riunione della Lega nella sede di Seregno, con anche la presenza del senatore Massimiliano Romeo e del deputato Andrea Crippa. Il tutto però senza che i sindaci del centrosinistra fossero stati messi al corrente della visita o coinvolti, commettendo così quella che il comunicato definisce come una grave scorrettezza istituzionale. Qualcuno riesce anche in questa situazione a strumentalizzare politicamente un evento di fronte al quale non dovrebbero esserci contrapposizioni o divisioni di parte, contestano i sindaci nel comunicato. È l'ennesima dimostrazione dello stile con cui questa destra sta nelle istituzioni e la conferma di come la Lega mischi sempre aspetto politico e istituzionale, piegando quest'ultimo a esigenze di partito. Chi sta al governo dovrebbe sempre agire ricordandosi che non esistono cittadini di Serie A e cittadini di Serie B in base al colore politico di una giunta comunale. Soprattutto di fronte alle difficoltà di eventi tragici che hanno colpito tutta la Brianza, Molteni presta attenzione alla voce di un intero territorio e non solo a quella dei compagni di partito.